Il Natale si avvicina e Macerata si prepara con le molteplici iniziative che lo caratterizzeranno per far sì che il centro storico sia vissuto non solo per il Macerata d'estate ma anche d'inverno. Si va sempre più imponendo piano piano Macerata e inverno nell'ambito del quale il Natale la fa un po' da protagonista. Abbiamo anche qui messo insieme una serie di iniziative che possano rispondere a tutte le sensibilità. C'è un bellissimo albero di Natale, insomma tutte quelle iniziative che tendono a mantenere e rafforzare con lo spirito di comunità che nel Natale trovano il momento ideale. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di fare un Natale più gioioso e meno dispendioso grazie alla collaborazione delle associazioni che sono il fulcro delle attività culturali in questa città, contribuendo ad arricchire il cartellone con molteplici eventi. Abbiamo chiamato questo periodo, queste quattro settimane insieme, Macerata Signora del Natale. L'idea di una comunità che si trova insieme, che si trova in piazza, che si trova negli spazi pubblici, nella biblioteca, al palazzo, al teatro, dove vivere insieme alle famiglie, ai bambini, nello spettacolo, nelle arti, nei mercatini, 11 mercatini che ci porteranno a Natale. Questa è l'idea del Natale che abbiamo, un'idea di una comunità che fa festa, che si ritrova serena per fassare delle feste insieme. Pensiamo che dobbiamo ringraziare davvero le tante, tante associazioni, oltre 50 associazioni che hanno collaborato per realizzare il Natale, le Proloco, ma anche le aziende che hanno voluto contribuire a sostenere il Natale. Sono tempi magri per le risorse pubbliche e il mettere insieme tante risorse economiche, ma anche umane, significa poter abbellire il Natale. Penso che in questa relazione pubblico-privato, associazioni, istituzioni, le scuole, ciascuno a proprio modo crea una buona atmosfera, un buon clima per Natale.